ciao ragazzi grazie di essere qui con me oggi allora oggi un video che avevo già anticipato di massaggio alla schiena e ho con me una crema corpo e un olio cominciamo dalla crema ne prelevo una quantità abbondante e la spalma così e poi sto sticapendo Grazie. Vado un po' scendo, vado un ottimo dall'altra parte. Cerco di fare la giusta pressione, cerco di non fare troppa pressione. Cerco di lavorare soprattutto in queste zone qui, che sono quelle in cui si accumulano un po' più stress e in cui appoggiamo anche tutto a borsa, sai no? Un po' esercizi c'è il collo e si richiediscono le spalle. Cerco veramente di lavorare in questa zona. Cerco di portare giù. Grazie. Grazie. Spero che riuscirete un po' a sentire il suono della pelle. Vi adoro il massaggio sul collo. Vabbè, qui. Di solito a me si accumula la tensione qui. Un po' qui. A lei invece si accumula più qui sopra, tipo qui no? Secondo me è molto... Dipende molto dalla posizione che si assume durante tutta la giornata. Dipende come si tengono borsi, zaini. Soprattutto nella postura. Io tendo a stare storta, lei tende a stare un po' coppa. Quindi abbiamo, è vero. Quindi abbiamo due male in due posizioni diverse. Potrei dire una pevolata. Ora vado a usare questo olio. che è un olio all'arnica con pinumugo. e questo è fatto proprio per aiutare con... a sciogliere i muscoli. Infatti l'arnica. La frizzola all'arnica con l'anno essenziale di pinumugo. L'antico rimedio per la cura del corpo. Da utilizzare per il massaggio muscolare. Ottenere un'immediata e durata sensazione di benessere. Ottimo soprattutto per il massaggio dopo l'attività sportiva. Non è il nostro caso. Apri lo che ho le mani onde. Questo devo dire la verità è un olio un po' secco. Che tende ad assorbirsi quasi subito. Quindi vado ad abbondare un pochettino. E questo è un olio di fresco pazzesco. Un pochettino. Ho carbonato tutto. Praticamente l'ho versato tutto sulla coperta. Oddio... vabbè ho sentito il caldo non si sente? no vabbè ok adesso provo a massaggiare un pochino anche la parte centrale non si sente? non si sente? non si sente? adesso mi concentro un po' sul collo posso toglierla? non lo metto così no ok ora pensate che ci sia qualcuno a farvi questo massaggio dopo una giornata di lavoro magari davanti al computer o se avete un lavoro in cui si fa fatica si fa un lavoro fisico ancora pezzo è sempre bello tornare c'è qualcuno che fa massaggiare la schiena dopo il passo successivo direttamente crollare penso se neanche cenare non si sente? non si sente? non si sente? non piacciono non si sente? 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 Io ho relativamente la sfortuna di essere quella che fai il massaggio, non lo dice? Adesso finiamo sempre con questo, finisco il massaggio con... Ah, potrei anche dare il rullo. Adesso il massaggio con un po' di precisione è fatto con questa cincina qui. Ok. Ok. In realtà a voi magari sembrerà anche un po' dei segni che lascia che stai applicando tanta pressione. In realtà la pressione è veramente poca. E andiamo in fine un po' con il rullo, proviamolo. Questo sarebbe fatto per le mani e per i piedi. Infatti l'ho provato a mettere sotto la pianta dei piedi. E' spettacolare. E' veramente gustoso. Ok. 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 Allora direi che anche qui è ora di abbassare le luci. e mandarvi la buonanotte con ancora un po' di massaggio con il rullo. E' un po' anche di visual tricola. Un po' sul collo. Buonanotte. 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 Sogni d'oro. Sogni d'oro. Sogni d'oro. Sogni d'oro. I bellissima. Buonanotte. Buonanotte. Sogni d'oro. Grazie a tutti.